Musica Appena terminato il primo tempo tra Costa Rica e Italia Riuscite a passare 6 a 0 Cosa? Sempre a 6 Sempre a 6, la prima volta te lo faccio 6 a 0 il primo tempo Stiamo giocando molto lentamente, possiamo fare molto meglio Avete sbagliato anche molto sotto E vabbè, quello è quando si gioca una squadra così Però facciamo il possibile Dovete fare più gol possibile Sì, infatti, questa è la nostra priorità Fare tanti gol Va bene, in bocca al lupo Ci proveremo Adesso andiamo a parlare con qualche elemento dell'Italia 10 Se scappate, va bene, in bocca al lupo del secondo tempo Oh, impegnati eh Siamo nel posto partito del match Costa Rica-Italia La gara è terminata a 18 a 0 per le ragazze Maglia Russo Maglia Russo Maglia è in campo esisto A due di pen, 5 gollo, complimenti Grazie Vittoria è importante, dovresti arrivare prima Se il Brasile non fa 19 gollo Si deve più di questo Infatti questo era il nostro intento Fare più gol possibili Secondo te ce la possono fare un brasiliano? Probabile Addirittura Però spero di no Dobbiamo vincere noi Ci siamo impegnati stasera Non c'è stato tanto agonismo Perché un 3-4 era molto E' un 3-4 Non puoi essere Non puoi essere cattivo Però il livello era differente Il risultato parla chiaro In questa riga che quindi dovrebbe chiudere a primo posto Un bello obiettivo Però bisogna vincere il torneo Ispira Certo Questo è il nostro obiettivo Il nostro intento Va bene Vuoi fare una dedica particolare? Si la dedico A Dernina Ragazzi volete aggiungere qualcosa? No Non sono attenta Che non le potete venire Ciao